Sì signori bentornati al collegamento con la partita Crystal Palace contro Uccidiamoli, risultato 3 a 2 per il Crystal Grandissima partita, fino a questo momento le due squadre non mollano, entrambe vogliono la piena posta in palio Qui a voglio, rimesso a laterale, palla dentro, Nasti di testa, che partita quella di Nasti, a voglio, sombrero, un po' difficile Tiene il pallone in campo, Tagliamonte, palla per il pallone, Esposito, ma c'è ancora Nasti, Tagliamonte, deviazione, riesce a recuperare il pallone per Rotta Che tra i pali, Maurillo, la finta, Maurillo, Montuori, rischia un po', un po' pallone verso Nasti, Redi, chiude, Esposito, accerchiato Montuori, sbaglia, Capodanno, l'apertura, troppo lunga, palla dentro, Tagliamonte per Andrea Esposito Sulla linea laterale, attenzione Esposito, riesce ad andare via, ancora Esposito, putta l'uomo, Esposito, carica il destro Ribattuto da Capodanno, a voglio, ancora, per Rotta, non è finita, attacca il Crystal, peppone a voglio, finta, va via Ancora voglio, dribbling a tre all'ora, poi chiude Capodanno, in qualche modo, ancora Capodanno Poi Montuori, rinvia, Maurillo, assedio del Crystal, rimessa laterale Montuori sbaglia il passaggio, rimessa laterale, in favore Crystal, batte Maurillo Dentro, Paolone Esposito sbaglia l'aggancio Allora, Montuori per Montuori, Montuori, un dribbling di troppo forse, appoggia all'indietro per Nasti Nasti, gran numero, Nasti, chiuso da un ottimo Redi, palla per Redi, che pesca, Esposito, troppo lungo Eccolo qua, il nostro pesca Redi Ma che giocata di Nasti, amici? Nasti, per Capodanno, buono l'aggancio, Capodanno, finalmente si sta svegliando Montuori, doppio passo alla Zunica, forse è tripalarmero Bruttissimo intervento di Redi Punizione per gli uccidiamoli, va Ciro Montuori Prova lui, e non c'è la deviazione dell'altro Ciro Montuori Praticamente a due centimetri dalla linea di porta, che peccato Tagliamonte Serve un altro Tagliamonte Poi Paolone Esposito in area di rigore, rinvia Montuori Ancora Tagliamonte prova a tenerla lì Poi Montuori rinvia, palla che arriva direttamente al fondo Batte il Cristal, Esposito, alla cecca, in avanti pesca Tagliamonte, Montuori Ancora Tagliamonte per Paolo Esposito, si gira a destra, fuori Attenzione Esposito attaccato da Nasti, arriva Perrotta, prova Perrotta, non va Di poco, per Rotta, non ha sferato il gol Poi Esposito, lunga Cercare suo fratello Arriva Tagliamonte, vediamo se la tira in gioco Tagliamonte col destro Palla che esce fuori Montuori, per Montuori La porta in avanti Viene recuperato da l'ottimo Tagliamonte Poi Nasti su di lui Mauriello, a spazio Cerca il passaggio verso Tagliamonte, si gira Gran numero Capodanno E poi esce Vitale con le mani Che giocata Di Tagliamonte Rinvia Vitale, forse con un braccio Montuori Portiere, rinvia in avanti Attenzione Tagliamonte di testa Capodanno col tacco Ancora Vitale sul pallone A fretta Vitale Per Montuori Prova il numero, palla in falla Palla a Nasti, Veronica Nasti Dentro, Montuori E la palla che c'è A Perrotta Pazzesca occasione per gli uccidiamoli Cosa ha fatto Nasti su quella fascia? Esposito, lunga Colpo di testa di Montuori Palla che arriva lì Nasti In fallo laterale Battuta Tagliamonte Ancora per un Tagliamonte Nasti Ovunque Palla dentro Occhio a Montuori Può ripartire la formazione degli uccidiamoli Montuori Una gran numero Apre la falcata Non lo prende nessuno Montuori Sinistro Perrotta Non aggancia Occhio a Reddy su di lui Perrotta Poi Montuori Palla che sfiora l'incrocio Perrotta Prova ad avanzare Viene chiuso Tagliamonte al limite dell'aria Si gira Tagliamonte Pesca Avolio Avolio Non va Provato il primo gol Nel torneo Da giocatore in avanti Avolio Montuori Come portiere Montuori bordata Sfiorato il gol In formissima Montuori Si vede che ha mangiato leggero a pranzo Esposito Arrivederà dal fondo Solito Schema del Crystal Palla lunga e pedalare Buona Attenzione Vitale Pasticcio Il gol del Crystal E' un autogol Di Acciaro Incredibile Tutto da un rinvio Di Esposito 4 a 2 Che peccato Attenzione Palla Montuori Si smarca Nasti Riceve adesso Ancora per Montuori Gran palla per Perrotta Arriva Tagliamonte Poi l'altro Ciro Montuori La finta Si scontrano I Ciri Montuori Poi parte Mauriello Apre la falcata Ottima chiusura Di Perrotta Rimessa laterale In favore Uccidiamoli Allora Batte Montuori La palla gli sfugge Tra le mani Palla dentro Montuori Cercato Nasti Colpo di testa di Esposito Attenzione A questa Gamba tesa Poi Mauriello Forse c'era fallo Si continua Palla dentro Tagliamonte In area di rigore Prova a metterla dentro Attenzione A voglio Per Tagliamonte Nasti di testa Montuori Rinviene avanti Mauriello Si gioca a ping pong Ora Poi Capodanno Pressato Perde palla Sentito Palla dentro Si è rimessa dal fondo Attenzione Montuori Per Nasti Grande apertura Nasti Vediamo se entra in area Nasti La finta Mette dentro Per Perrotta Che non controlla Allora Montuori Di nuovo per Perrotta Anzi no È una finta Ok Ok La conclusione di Montuori Blocca Attenzione Ho qualche difficoltà Tagliamonte Punizione Leva Nasti Prova lui Nasti Palla che sfiora Il palo Sempre 4-2 Anto Invio di esposito Tagliamonte Appoggio è sbagliato Motuori Motuori super la metà Capo Ready Non è finita Ready Se ne è un attimo Addormentato Ancora Ready Laterale blu Rimessa laterale Ready Mancano 5 minuti Anto Mancano 5 minuti Anto Esposito Palla dentro Capodanno Esce e fa sul pallone Gli uccidiamo Gli uccidiamo Gli devono crederci Ready Ovunque Ancora un super ready Per esposito Controlla e tira Palla fuori Pallone lungo Si spegne sul fondo Rinvio di Ciro Montuori Deve accelerare la formazione Maglia rossa Se vuole portare al caso Almeno un punto Esposito Rinvio lungo Per il fratello L'aggancia in aria Montuori attento Rinvia Palla in fallo laterale Sbuffa Nasti 2 No 1 2 4 a 2 Ready Per Tagliamonte Spinto da Nasti C'è calcio Anzi rimessa laterale Attenzione Montuori Occhio Saltano tutti Palla dentro Nasti Ancora Nasti Palla sul fondo Sbuffa Ciro Montuori Che è venuto qui A dare una mano A questi ragazzi Perde tempo Esposito Esposito Lunga Per Tagliamonte Che qui sbaglia Tutto Aveva una grande occasione Capodanno Pasticcia Capodanno Ma anche Tagliamonte Laterale Sarà rimessa Per Il Crystal Attenzione Redi Sbaglia la rimessa Natterale Esposito Attenzione Attenzione Per Rotta L'apertura Per Montuori Ancora Montuori Uno contro uno Montuori Dentro Vitale Sul pallone Vediamo Se prova Vitale Carica testa bassa Va giù Non c'è fallo Redi Rinvia Attenzione A Tagliamonte Capodanno Pasticcio Ci fermiamo Per il secondo spot Risultato 4-2 Per il Crystal Grazie